Ancora proteste per la casa a Napoli davanti alla sede del Lacer, l'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale si è tenuto un presidio promosso dalle organizzazioni degli inquilini Sicet, Uniat e Assocasa. I sindacati in piazza hanno ribadito che attualmente sono migliaia gli alloggi popolari in Campania nel degrado assoluto e nel caos gestionale. Chiediamo innanzitutto un confronto serio con l'Acer Campania perché sono mesi che denunciamo uno stato di immobilismo totale gestionale, non si riescono neanche più a svolgere le pratiche più banali le pratiche di voltura, di sanatoria, la verifica dell'emorosità, c'è un problema gestionale che ricade tutto sugli utenti. Poi c'è la questione anche importantissima di come si individuano criteri e priorità per ottimizzare al massimo le risorse del PNRR e della Next Generation, parliamo di oltre 200 milioni di euro che devono servire, secondo noi, ad abbattere le barriere architettoniche per porre fine alla prigionia di tanti disabili che non possono scendere dalla propria abitazione ma anche per riqualificare l'esistente. Guardo l'assegnazione, crediamo che invece si debba dare una svolta, è stato pubblicato con il regolamento regionale una nuova procedura per l'assegnazione di poter chiedere una casa popolare attraverso questo bando regionale. All'attualità sono ferme tutte queste procedure, così come sono state fermate tutte le vecchie procedure di assegnazione in capo ai comuni, quindi c'è un grande caos in tema di assegnazione e chiediamo anche su questo tema che venga avviato subito un confronto serio e convocato l'osservatorio regionale sulla casa.